Ho messo la mia anima fra le tue mani, curvale a nido, essa non vuole altro che riposare in te, ma schiudile, se un giorno la sentirai fuggire, fa che siano allora come foglie e come vento, assecondando il suo volo e sappi che l'affetto nell'addio non è minore che nell'incontro, rimane uguale e sarà eterno, ma diverse sono talvolta le vie da percorrere in obbedienza agli stili. Grazie per la visione!